Purtroppo, quando c'è bel tempo, gli italiani vanno al mare. Tutti. Ora, noi non vogliamo creare allarmismi, però ricordatevi che le acque del mare e so sporche. Fanno schifo. Ci sono le meduse. E' pieno di tracine. Che sono le tracine? Non ho mai prestato una tracine. Uuuuh! E poi c'è il traffico, gli ingorghi. Volete un consiglio da due persone disinteressate? Quando fa caldo, ma vai al cinema, vai! E' un consiglio a cura del Ministero della Sanità. Non è vero. Ma ti è zitto. Non lo sanno, ti è zitto. E si denunciano. Rido, ma ci denunciano. Ti ridi e basta.